Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per venerdì 3 giugno. L'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e quindi prosegue l'ondata di caldo con massimi valori al centro-sud. Una perturbazione atlantica lambisce il nord Italia. Il tempo previsto, temporali isolati qua là, pomerigliane su Alpi e Piemonte, Lombardia, Triveneto, ma non lungo le coste. Temperature in calo sulle regioni di nord-ovest, massime 25-27 gradi appunto sulle regioni di nord-ovest. Temperature massime mutate sul resto d'Italia, 28-30 sulle regioni di nord-est del medio adriatico, 32-35 gradi su regioni tirreniche, 33-37 gradi su Puglia, Lucania, Calabria e interno dell'isola Maggiore. Temperature massime per lo più sotto 30 gradi lungo la fascia costiera.